ciao ragazzi buongiorno un nuovo video si però perché siamo sempre noi due beh aria perché dobbiamo fare uno scherzetto red davvero si ho pensato a tutto vieni 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 andiamo no ti sussurro perché poi lui sente di là allora praticamente dobbiamo far fare una challenge a red ma no aria si è addormentata aria che c'è dobbiamo fare una far fare una challenge a red una challenge giusto guarda cosa c'è dietro di te è bellissimo mi prenderò tutto no 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 aria no 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 vieni 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 hai visto quante cose vediamo in quanto tempo riuscirà a trovare tutti gli oggetti dei pokemon però prima noi dobbiamo trovare red oh giusto è lì che legge fumetti blu eccolo lì ti sente scusa scusa ah eh eh guarda non ti farei vedere nascondiamoci ma che cosa è quel piedino tiri 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 dai andiamo andiamo facciamogli uno scherzo al mio tre urliamo uno due tre red ciao red ciao come va che fai che fai che fai che fai che fai no stavo leggendo dei fumetti oh i fumetti di topolino si no che cosa sono guarda wow che meraviglioso no topolino disneyland che bello ragazzi voi lo sapete quanto a me piacciono tanti fumetti soprattutto quelli disney quelli di topolino quelli delle avventure di paperino l'avventura di eh vabbè non ci interessa non ci interessa non ci interessa dobbiamo dirti una cosa red adesso tu dovrai fare una challenge si si una challenge dai red ti prego ti prego ti prego devi fare una challenge vieni no 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 red red ti prego ti prego dai 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 blu dai ma poi leggiamo questi commenti aria puoi insistere per favore vedi che tu non lo sai vedi che tu non lo sai vedi che tu non lo sai un momento dei fumetti un momento tutto tuo che devi prenderti tu è un momento in cui dici 30 minuti 20 red è bellissimo leggere ma adesso dobbiamo fare la challenge dai 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 ci vado voglio farla nel cappello ma qui si capisce no no il mio cappello no mi mangi a pozzo red 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 dobbiamo fare la challenge dobbiamo fare la challenge dobbiamo fare la Dallo di qualcosa Ok La challenge di oggi è Trovare Tutti i personaggi dei Pokémon Red dai Dai non fare il triste Per forza devo fare questa challenge Devi trovare tantissimi personaggi dei Pokémon All'interno delle vetrine Va bene va bene parto da qui Bello C'è Topolino, Paperino, Pippo, Pluto C'è pure la tua principessa preferita Dove? Ma io non te l'ho chiesto Aladin Il genio E qui andiamo al mondo di Toy Story Woody Buzz bellissimo Ma qua Qui non vedo il Pokémon Giusto E allora andiamo qui Qui c'è Londra e tutto il mondo di Harry Potter Ma non ci interessa perché noi dobbiamo Cercare i Pokémon Wow apriti Tanti Pokémon Da qui ti puoi sbizzarire Red Dunque questo qui non è il mondo È l'universo dei Pokémon Esatto Dunque partiamo da qui Un po' Disney però sempre Niente Scendiamo giù Ah bravo Almeno l'hai indovinato Pokémon Wow Mewtwo Bello Qui c'è Pikachu Charmander No non è mio È tu Ma no Ma che c'è tra lui Mewtwo e il Pokémon Vabbè lascia perdere Pikachu Charmander Bulbasaur Squirtle Questi sono i Pokémon Starter Vero Blu? Giusto Bene E poi qui abbiamo tutti i Pokémon della prima serie Wow Guarda chi c'è C'è Jeffodude E poi comunque c'è Abbiamo il grande Pikachu Qui stanno da tutti E poi qui Cambia La storia cambia Perché abbiamo la collezione Del venticinquesimo anno dei Pokémon Blu Ma che vuol dire venticinquesimo anno Si sono sposati tutti i Pokémon Ma no Aria È il venticinquesimo anniversario Vuol dire che hanno fatto il venticinque Un compleanno Come un compleanno Sanno venticinque anni Da quando sono nati Tanti auguri A voi Che cos'è? Oh Andiamo a lavare i dentini Come Red Guarda Red e Aria Siamo io e te Io e te Io e te No No Ragazzi Guardate qui Le sfere Poké Io ero piccolissimo Quando c'erano già le sfere Poké Guarda quanti Pokémon A questi faranno una fortuna Sì che meraviglia Le carte di Pokémon Questi sono tutti giochi di carte collezionabili E poi guarda qui Ecco sembra un po' obeso Ma in effetti non è un po' obeso Perché è una versione speciale Del venticinquesimo anno di Pokémon Wow Non ci posso credere Guardate che cosa ho visto Pensate che è ancora confezionato Adesso lo scarto Sento un rumore di scarto Red ma dov'è Aria? Non lo so Io non ho capito da dove si scarta Però è difficilissimo Oh mamma mia Aria Che cosa stavi facendo? Io? Niente Ti abbiamo beccato No ma io stavo Mi stavo guardando le unghie Che sono bellissime Ma tu lo sai quanto è prezioso quello Scusa Facci vedere No 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 Dai 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 Facci vedere Va bene Hai preso? No Ma tu lo sai che quello viene direttamente dal Giappone Stavo aprendo perché volevo giocare con questo Ma cosa? Ma non puoi aprirlo quello lì Aria Dai Quello è un pezzo da collezione Oh un pezzo da Ma io non lo sapevo Scusate Va bene Lo metto a posto L'ho messo a posto Vado vado Non ti preoccupare dai Mettilo a posto L'ho preso qui eh L'ho preso qui Le cose si mettono a posto con tanta cura Perfetto Allora prendo questo io No Red, blu L'ho messo a posto Comunque sono stato molto bravo Lo so Non è vero perché comunque la challenge non è andata come previsto E quindi dobbiamo ormai salutare però Si va bene Magari ci vediamo alla prossima avventura Si Con la speranza che Red possa riuscirci nel migliore dei modi Esatto Con la speranza che tu Non lo so Ragazzi non c'è bisogno Dobbiamo soltanto dire a loro di attivare la campanella Mettere mi piace Condividere il video Ovviamente seguirci sul nostro canale Si Alla prossima avventura Ciao ragazzi Ciao Che fai Aria? Ciao 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 Grazie a tutti.